Tonino Morrone che ha davvero un bel ricordo di quel 19 marzo dell'83. Sì, veramente io ho sempre presente l'immagine di San Giovanni Paolo II. Ho partecipato direttamente alla Santa Messa, ho letto una preghiera dei fedeli per i lavoratori. A quel tempo io lavoravo in Fiat ed è stata un'esperienza straordinaria, anche se già conoscevo San Giovanni Paolo II per via dell'azione cattolica, però è rimasta in me impressa l'immagine di San Giovanni Paolo II quando la sera sono andato direttamente a lui a prendere la comunione. Ricordi davvero vivi? Certamente, certamente. Io sono un mattiniero e la mattina passo sempre in Piazza del Papa e mi fermo sempre a fare una preghiera a San Giovanni Paolo II perché è stato il nostro Papa, il Papa della nostra gioventù, che ci ha insegnato tantissime cose e quindi il ricordo di lui è vivo in ogni momento nella mia vita. Grazie a tutti.